Ma che bella faccia che vedo qui oggi, ma è proprio bellissima! E ovviamente non sto parlando di quella di Fere, ma quella di qualcuno che conosciamo ben tanto meglio di Fere, secondo me. Fere, come va? Sei felice? No. Perché mi fai questo? Mi odi, Steph, cosa ti ho fatto di male nella vita? Fere, solo... Ma spiegami cosa ti ho fatto di male, non me lo dici, magari ci pestiamo, risolviamo i nostri problemi e la smettiamo di fare le lucky race, scusami, eh. Non ci siamo fatti nulla di male, stiamo facendo dei lucky race di Baldi, Fere, finita. Allora, già Baldi è insopportabile nel suo ambiente naturale, ora nel suo gioco. Ok. Figura che se lo porti qua su Minecraft. Già, lo so, lo so. Beh, Fere, io da quello che so non dovrebbero esserci troppi mostri, quindi non lo so, secondo me puoi stare tranquillo. Inizia a spaccarne qualcuno e poi mi dici la tua. Però, a me la prima mi ha dato 10 di diamanti. A me degli smeraldi, dei blocchi di diamanti. Eh, allora, cosa vuoi? Guarda, stai zitto, Steph, è solo un inghippo. Ha già cambiato... Ah, questi diamanti? Che hai trovato? Eh, cavolo, Steph! Quanti Baldi! Una ceste con della legna. Raga, e ora che cavolo faccio? Questo è il posto dei desideri? Eh, visto di sì. Ok, no vabbè, sono diventato ricco. Il discorso è che mi tocca perdere un po' di tempo e poi sto vedendo cose belle che mi cadono di sotto, sono arrabbiatissimo. Ok. Smettete di cadere. Cos'è questa cosa? Dai! Almeno fosse stato utile per equipaggiarmi tutta sta storia. Ho trovato una pozione. Ok. Ho pensato fosse una bella idea a tirarla e mi ha fatto esplodere. Ah. Ok. Vabbè, però è colpa tua che hai voluto a tirare. Non è stato molto divertente. Galaxy BR. Ok, altra carne. Ok. Dei gambali, quindi non male. Cosa? Steph, sto trovando cose un po' strane. Tu come sei messo? Eh, ma ci sono qui dietro. Steph, perché mi hai fatto esplodere? Cosa mi hai tirato? Ti ho visto che guarda... Steph, smettila! Sono bellissimi il Lucky Block! Ti uccido, smettila! Non ho voglia di rifare ogni volta tutto il percorso e di dover solo camminare, quindi... Bellissimo, bellissimo, bellissimo! Raga, oggi ci divertiamo! Fere! Ho chiuso mai! Raga, ha chiuso il gioco! Sì! Ti ho voluto di smetterla, tu per la terza volta me l'hai tirato e non ci sono più! Guarda la pista, non c'è più Fere! Fere! No, l'ho chiuso! No, non entro più! Dai! È però... È però senza! Allora, ricostruiscimi la pista, se me la ricostruisci io torno! Ti avevo detto smettila, Steph, che non ho voglia di fare il camminatore simulator come ogni volta! Tu mi hai tirato anche la terza, sono morte! Finché non mi rifai tutta la pista fino al prossimo Lucky Block io non gioco più! È lì giù, Steph! Avevo iniziato a farla lì, puoi continuare quella! No, tranquilla! No, vai, vai! No, io non sto ridendo! Io sì! Non sto ridendo! In effetti ho fatto un po' di danno, eh! Però dai, stiamo provando soltanto i poteri! Cioè, ci sono due corsie inutilizzate, provali lì! Ma no, ma no! Non c'è nessuno! Ma dobbiamo vedere quanto è forte! Perché li devi rompere a me! È perché se non... Scusa! Ecco! L'ho fatto, eh! È pronta! Ma ti sto tornando perché ho visto... Ciao, ecco ti! Che è continuata la mia pista! E non ci provi mai più, guarda! Che persona orribile che è questa qua! Ecco! Aspetta, aspetta! No, perché il cielo sta arrabbiato con te, Steph! Sì, sì, sì! Masta pioggia! Ok, raga, mi sta andando abbastanza bene! Cioè, ma che cavolo c'è lì sopra? Vabbè, andiamo avanti! Allora, no, due alla volta inizia ad essere un problema! Se non sta a fortuna, no! Uh, bello! Ho trovato una bella cosa! Aspetta! No! No, ma... È caduta di sotto la TNT! E vabbè, Steph! Ma tu stai trovando così bellissime? Mi hai visto? Perché sto trovando schifezze? Bello, 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 bello! Mi piacciono i Lucky Blocks di Baldi! Dai, stanno andando bene! Questo che è? È una pozione? Non so cosa sia! Ah, no, è una pozione di unlucky! E quindi fa venire un sacco di fatica, un sacco di cose brutte! Allora, pam! Distrugge instant! Ok, armatura! Non so che fa! Va bene, andiamo avanti! Ok, poi saliamo di qui! Lucky Blocks di destra! Cibo! Lucky Blocks di sinistra! Non voglio sapere che cosa fa! Questo io lo vorrei utilizzare! Ma Ferre non vuole! Quindi ci divertiamo così! Che cosa, Steph? Una dinamita! Eh, smettila! No, usale! Ma su di te! No! Non sulle... Non è divertente su di me! Dai! Ok! Ok! Sigtaccio! Sembra buono! Però questo mi sembra più forte, raga! Ferre! Ha rotto il gioco! Sì, l'ho rotto! Ferre! Basta! Ebbene! Mi si appiccica i blocchi il personaggio! Ok! E io non mi posso muovere! Guarda! Non mi posso muovere, in nessun modo! Ma ti faccio esplodere! Ma neanche... Non posso togliere nulla! Aspetta, vediamo se riesco a salire qua! Riesco a saltare almeno! Sì, dovrei! Ok! Ce la fai? Tutto a posto? No! Non è che mi hai stoppatto anche la tua webcam dalla registrazione con tutti quei colpi? Non lo so, può essere! Controlla! No, è tutto a posto! Tutto a posto? Tutto a posto! Brava! Ora fai due respiri e torna tranquilla! No, perché sono sempre buggate a ste modi! Non so perché mi hanno rotto il PC, quindi adesso dovrò di installare Minecraft! Lo so, ma... Tu lo dici ogni volta! Ma fallo, però! No, perché mi dimentico! Disinstalla! Disinstalla, Ferre! Allora! Cavolo! Disinstalla! Che è sta? Sto buttando, raga, un po' di roba perché altrimenti poi finisco gli spazi! Sì, me la mangio! Cos'è? Bella! Mi ha fatto diventare straveloce e una vita assurda, Steph! Altissima! Peccato! Volevo provare una gietta! Vabbè, ma sono velocissima anche a minare, quindi adesso ti batto per fortuna! Ragazzi, siete d'accordi? D'accordi? Che è destino! Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego! Ok! Uh, un'altra di queste berri la voglio! No, no, no! La prigione, no! La prigione, no! Cos'... Cos'... Come faccio a distruggerla sta roba? Che ti succede? Perché sei lì sopra, te? Sono volato con la TNT! Non so perché non ho preso danno! Bene! Lo so! Sono talmente forte che non ho preso danno! Ah, ma posso costruire qui dentro? Ah, posso saltare un botto! Quindi esco facilmente! Guardami, Steph! Dove sei? Cosa è, Steph? Ok! Per terra! Come per terra, Steph? Sto risalendo! Guarda io quanto salto! Ho trovato delle berri che ti fanno saltare e correre, sei velocissimo anche a dare i colpi, a picconare, quindi posso fare il lucky block straveloce, però... Poi mi dispiace che a te sia in terra! Dove sei? Eh, sono tornato! Non ti vedo! Ah, sei lì! Ma maledetto, sei più avanti! Mi devo muovere! Come? Uh, altre di queste berri! Come? Mie! Mie! Ok! Cos'era? Trovato una divisa rosa! Ok! Fede! Eh! Mi puoi far venire da te, per favore? No! Sono giù! Ah, ma qui c'è un parkour da fare! Sì! Eh, ma è difficile! Io salto un botto, Steph! Fede, mi servi! E che vuoi? Farmi arrivare da te! Come? Ecco il teleport! Non ti so teleportare da me! Ti prego, Fere! I need you! Dai, un sacco di blocchi! Cosa? Tieni! Non me ne faccio nulla dei blocchi! Non c'ho voglia di risalire! Te l'ho detto! È troppo difficile quel parkour! Io salto troppo! Ma io c'ho problemi strani! Non è questione di saltare troppo! Ma quella non è una novità, Steph! Ma non è... No, no, no! No, no, no! È una novità e come, cavolo! Sono forte per combattere! Ma non mi saltava il PG! Non so che cavolo succede! Io billo! Alla fine, nessuno dice che non puoi billar! No, tecnicamente... Ma dai, qua ci sono dei blocchi invisibili! Io come ci torno è la mia pista! Eh, esatto! Aspetta, mi tocca volare! Sono i blocchi visibili tutti attaccati alla mia pista! Non so come tornare! Ta! Ta! Dai, dai, dai! Dove ero? Dove ero? Dove ero qua! Ta! Ehm... Ok! No, buildo anch'io! Non fa... Qualcuno qua è diventato fortissimo! Ok! Aiuto, quanto salto! Ok! Ma mamma che sono appiccicata! Ok, raga, salto tantissimo! Andiamo, 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 andiamo! Io non ho più un checkpoint! Quindi non posso più morire! È buona la prima! Ah, bene! A meno che non prendo il prossimo! Perché il mio checkpoint è per terra! Ok! E quindi ho questo problema enorme! Avvia questi! Mettiamo questi! Ok, veloce! Steph continua a questa velocità incredibile! Galaxy and spinner! E che fa? Non lo so, Steph! Io sto litigando con i lucky block! Che succede? No, è caduta? No, Steph, io non posso camminare! È solo quello! Eccola! Non posso! No, mi tocca davvero entrare in creative! Perché io poi ho questo effetto calamità strano su tutti i blocchi! E non posso più camminare! Quindi mi tocca buttarmi! E rivedere! Raga, la vete a vedere una follia? Vabbè! Dato che è triste! Vi faccio vedere! Questo è il mio piccone fortissimo! Che mi permette di distruggere qualsiasi cosa instant! Come vedete, è velocissimo! Questa è la mia velocità! E quindi adesso noi facciamo così! Uh, ok! Lo state vedendo? Guardate! Ce la faccio a saltare, sì! Mi hanno rovinato il momento, però! Non è colpa mia! E ce l'hanno a nuotare! Questa roba! Sono veloce, ma non a nuotare! Questa armatura la voglio! Non ho spazi! Questa armatura la voglio! Ok! Ma dai, che noia! Devo sempre cascare! Ma sono cascata in un cumulo di lava! Vabbè! Aspetterò la mia fine! Ma abbiamo la stessa cosa! Hai mangiato anche tu delle bacche blu? Sì! Ecco perché! Molto buone! Eh, sì! Io sto aspettando di morire con la lava, Steph! Con i miei cuori infiniti! Non brucio! Cioè, ho anche Fire Resistance, scusami! Ok, mi dispiace! Sì, Fire Resistance! Bello! Non andrò mai via da qui! Cioè, io sono passato attraverso dei blocchi invisibili! Davvero? Sì! Vedete che qua io... Ah, no! Ok! Si è bucato un solo blocco invisibile! Proprio dove dovevo essere io, vero? Grande gioco! Grande! Ok, risalgo! Ragazzi, ho una paura matta! Ok! Ciò farò a tornare e a continuare il mio... Ti prego! Dai, farò! Non esplodere! Questi sono più belli, vero? Non sopporto più sto gioco! A chi è che può divertire mettere un punto con tutto invisibile dove però tutto non è invisibile? Non fa ridere! Non è divertente, cavolo! Esatto! It's not funny! Così come non è divertente strappiccicati i blocchi! It's not funny at all! Mamma mia, quanta roba mi ma... Una, due, tutto di fila, tre, quattro, cinque... Prende il giro il gioco, mi prende davvero in giro! Sette! Ops! Otto! Nove, dieci, undici, undici, undici... Com'è la cavolata che si caschi di sotto? Devo rifare tutto! Come devi rifare tutto? Eh sì, era sul momento tutto di fila... Via, 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 via! ...che non ho chiamato perché poi mi portavo sfiga e sono caduto! No, no, Steph! A salame! Che c'è fare? C'ho bug strani! Tipo? Guarda! Raga, è tipo attirata ma allo stesso tempo bloccata... In un pozzo? ...in una prigione... Non ho voglia di dover andare sempre in creative per uscire da ste rob... No, non posso uscire, neanche volendo... Fammi distruggere il pozzo... Ma perché ho Minecraft buggato? Ma che ho fatto di male? Perché mi va sempre tutto male? Ma... Sono molto triste in questo momento... Ma... Leviamo la creative che sono costretta ad utilizzare... Ma... Ancora? Ma... Cioè, non è possibile però sta roba, Steph! Tre lucky block tutti di fila al pozzo di lava sotto... Ma come è possibile? Ma... Che hai fatto, Steph? Un po'? Dove sei? Non lo so! Sei alla fine della mappa? Forse! È strano qua! Allora, aspetta! Questi li ho finiti! Me ne vado! Basta! Mi sto stancando! Oh, ho trovato il metto rosa! Aspetta, lo vuoi... Ma, Steph, no! Dai, non mi portare qui! Ciao! Dai, stavo facendo la mia gara! Stavo prendendo il metto rosa! Uno contro uno! No, Steph, non è un voglio! Faitiamo! È finita la gara! Oh, cavolo! Steph, non ne ho armi! Stavo ancora facendo la mia gara! Perché mi hai portato qua? Perché è finita! Non è finita! It's over, Fede! Tu non l'hai neanche finita! Non è vero! Ho battuto Baldi! Non è vero! Non l'hai finita! Sei un bugiardo, Steph! L'ho battuto! E poi mi hai detto non ho armi! Cioè, non muori! Quindi spiegami! Eh, non ho armi! Eh, certo! Non sei credibile! Ma ne prendi danno? No, non credo! Con questa? Sto cercando qualcosa da attirarti! È immortale, raga! Abbiamo un problema qua! Allora, tieni, Steph! Così impari e ti stai un attimo fermo, maledetto! Avevo latte! No, mi hai detto tutto! Non sono più con la... Io ho altre berri, Steph! Quindi bevo il latte! Prendi, te ne hai meglio detto! Vieni attaccata dagli ice fish! Dai, Steph, non avevo finito la mia... Guarda sotto di te! Li ho visti, maledetto! Eh, Ferre, abbiamo finito il video! Non è vero! Sì! Io torno a rifare la mia gara! Vabbè, Ferre continuerà a fare la sua gara fuori dal video! Non ho capito perché il finale con la cupoletta di vetro è stranissima! Però abbiamo finito! Va bene! Ferre era bagatissima, come sempre, oggi! Carini i blocchi, perché c'è un sacco di roba divertente! No, carini, carini, sì! E un sacco di armi che non mi permettevi di usare, ma che erano davvero bellissime! Esplosivi, tornadi, furmi, un casino! Io l'ho trovato, cavolo, peccato! Ho trovato tanta armatura, tanti effetti! Tipo i Galaxy Guards, l'hai mai trovato? No, non l'hai mai trovato di questa roba! Guarda, ti faccio vedere questo! Ok! Guarda! Non so, ormai credo che non abbia più effetto su di te, però guarda! E invece è talmente forte che ci chilla! Talmente forte, bello! Sì, 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 è letale, quello è incredibile! E niente, comunque, ci fermiamo così! Qua sotto comprenano altri video di Lucky Block e tutti quelli che piacciono sempre Ferre! E lì sarà sempre così sorridente, allegra e contenta! Attirata dai blocchi perché ha un bug eterno! Se non disinstalli stavolta Minecraft, tipico io e tipica nei consolini, te lo dico! Guarda, e se continua non le faccio più perché è un segno di destino! No! Iscriviti al canale, cliccate il campanellino e ci vediamo nel prossimo video! Ciao, ciao!